Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video, sono Winterfest e oggi parlerò della partita che c'è stata ieri sera tra Inter e Valencia, valevole per il trofeo Mestaglia. Allora, la partita si è conclusa 1-1 e poi l'Inter ha vinto ai rigori 7-6. Ok, rispetto alle altre partite c'è da fare una menzione che nel primo tempo, forse per stanchezza, forse per, non so, condizione fisica probabilmente, era un po', sempre con la solita aggressività, però palla a terra non riuscivamo ad andare avanti, abbiamo perso tantissimi palloni e non abbiamo fatto nemmeno un tiro. Valencia nel primo tempo deve stare 2-3-0 anche, però alla fine è passata in vantaggio nel 38esimo e poi siamo riusciti a riacciuffarla, però al primo tempo non abbiamo creato nessun pericolo, quindi non va bene così, non deve succedere questa cosa, non dobbiamo andare in difficoltà in questo modo. Nel secondo tempo invece c'è stata una reazione e abbiamo attaccato, ci abbiamo provato, come sempre, non abbiamo mollato e questo è un punto a favore perché trovarsi in svantaggio sempre per una condizione mentale è una cosa bruttissima, quindi riuscire a reagire è una cosa di fondamentale importanza, che non tutte le squadre ci riescono. Quindi, ottimo che Conte lavori su questo modo di fare e modo di porsi. Alla fine siamo riusciti a riacciuffare il pareggio con un rigore di Politano, a 10 minuti alla fine, su una azione personale di Esposito, che è stato falciato dentro l'area, che anche Esposito è subentrato. Gli undici titolari erano i tre soliti di difesa, D'Ambrosio, Skriniar e De Vrij, 5 di centrocampo, Candreva, Sensi, Brozovic, Dalbert e Barella al posto di Cagliardini, che solitamente gioca a Cagliardini, si alternano solo loro due, gli altri sono sempre gli stessi. E in attacco però, invece che Perisic e Esposito, Lautaro Politano. E alla fine penso che questa formazione, che è stata schierata oggi, sarà la formazione di giocare a titolare contro il Lecce. A parte qualche minimo cambiamento, perché penso che Lukaku non giocherà le prime due partite, perché si dovrà adattare al modulo di Conte e al campionato italiano. Quindi penso che le prime due giornate non se lo schiererà, poi avrà altre due settimane per lavorare con lui per la sosta delle nazionali, sempre che non verrà convocato, ma penso che verrà convocato. E poi successivamente potrà schierarlo. Questa è la mia idea, cioè secondo me, come farà Conte. Però questo lo staremo a vedere, anche se penso che Politano e Lautaro giocheranno appunto titolari. E se dovesse arrivare Dzeko, magari giocherà Dzeko con Lautaro. Però Lukaku penso di no. Queste prime due giornate, eh, non dico per sempre che sarà il panchinaro. Parlando della partita, non ho notato una cosa, che oltre alla condizione fisica, il Valencia ci metteva in difficoltà anche con molti contropiedi. Con i contropiedi ho notato che dobbiamo lavorarci, perché il gioco di Conte predispone ad arrivare al limite dell'area tutti in movimento in avanti, palla a terra. Quindi se è un 3-5-2, attaccano praticamente in 7. E gli unici che restano dietro sono 3. Quindi questo è un rischio, perché se poi perdi palla tra i passaggi, tra un tocco di prima o una cosa così, e ripartono subito, loro hanno anche sulle fasce e al centro giocatori molto rapidi e veloci, non alti. E quindi li potevano punire subito. Ed è una cosa su cui Conte deve lavorare assolutamente, perché è un punto debole di questa Inter e dobbiamo curarcene prima dell'inizio del campionato. Perché soprattutto con Lecce e Cagliari saranno squadre che si chiuderanno dietro, soprattutto il Lecce, e cercheranno di puntare al contropiede per segnare. Il Cagliari non lo so perché giocherà in casa, quindi magari anche lì un carattere in più, la voglia di giocarsela, la voglia di fare. Il Lecce in casa nostra, la prima giornata, penso che sarà tutto chiuso dietro, per poi provare a ripartire con due o tre giocatori. E su quello dobbiamo stare attenti. Per il resto i rigori li abbiamo segnati tutti, ha sbagliato solamente Carai nei rigori altranza che ha tirato altissimo. Per il resto un Inter nel secondo tempo buono, nel primo tempo da 5 e nel secondo da 7. Quindi una partita da 6 c'è da migliorare, naturalmente c'è ancora da migliorare. Abbiamo fatto un passo indietro, ma penso che era per la condizione fisica. Naturalmente non sto esprimendo giudizi già sulla stagione, è semplicemente un amichevole come lo è stato con il Tottenham, con la Juve che abbiamo giocato bene. Non vuol dire niente. E niente, la prossima partita dell'Inter sarà direttamente con Lecce, quindi la prima di campionato, quindi in post partita ci vedremo lì. E niente, ci vedremo nei prossimi video, probabilmente parlerò di mercato, di acquisti che ci saranno. Penso che il mio prossimo video sarà la cessione di Pevisic. E niente, alla prossima!